Parliamo di ranking internazionali, cioè delle valutazioni che agenzie fanno delle prestazioni delle università nel mondo. Bene, questi ranking fanno parte di un gioco abbastanza importante a livello internazionale che vede in particolare tre partite. Primo, con università con buone valutazioni internazionali si attraggono studenti e si realizza quindi un'influenza politica e culturale nel mondo. Seconda partita, altrettanto importante, con dei buoni risultati nei ranking si attrae capitale umano di valore, significa studenti bravi che vengono dall'estero e che portano la loro intelligenza al servizio del Paese. Terza partita, non meno importante, è la partita economica. La presenza dell'affluenza di studenti stranieri può essere estremamente importante per un'economia. Non facciamo il caso dell'United Kingdom che è ben conosciuto, parliamo dell'Australia. Nel 2014 c'è stato un picco di affluenza di studenti stranieri che ha portato 17,5 miliardi di dollari nella economia australiana. Beh, si tratta di una partita molto importante e i ranking giocano in questa partita davvero un ruolo significativo. È opportuno discuterne, è opportuno confrontare i modi in cui questi ranking, queste classifiche sono prodotte, è opportuno partecipare a questo lavoro, non si può restarne fuori. Grazie. Grazie.